Buona domenica, ben ritrovati su TG con 24, con noi questa domenica il Cardinal François Bustiglio, Vescovo di Agiaccio in Corsica. Grazie per aver accettato il nostro. Grazie a voi. Grazie. Allora, Cardinal Bustiglio, la prima domanda personale, François Bustiglio se non avesse scelto la via francescana cosa farebbe oggi nella vita? Chi sarebbe? Mistero, ma penso che sarei o nel mondo dell'insegnamento o della politica, quindi secondo me nella mia natura, nella mia cultura c'è l'impegno per gli altri, quindi la nozione di impegno e anche il fatto di fare qualcosa per gli altri nella mia natura, quindi avrei fatto qualcosa di simile. Da ragazzino sognava forse diventare un politico? Da ragazzino volevo essere o professore o medico. Poi, insomma, il Signore ha fatto con il suo spirito con molta prudenza, con molta discrezione, con molta audacia, ha fatto il suo cammino nella mia vita. Lei è nato in Spagna, ha studiato in Italia, ha vissuto tanti anni in Francia, adesso è vescovo in Corsica. L'Europa come la vede? La fede come va? L'Europa manca un po' di freschezza. Si dice che l'Europa è secolarizzata, soprattutto l'Europa occidentale è secolarizzata e purtroppo noi cattolici abbiamo uno sguardo che è eurocentrico. Se l'Europa va bene, tutto va bene, se l'Europa va male, tutto va male. E a volte dimentichiamo l'aspetto un po' universale, c'è l'Africa, c'è l'Asia, c'è l'America, c'è freschezza che viene d'altrove. Ma l'Europa, secondo me, ha bisogno di ritrovare le sue radici, l'entusiasmo, il gusto è la vita e solo il Vangelo può ridare. Io ero ieri con il presidente Emmanuel Macron e gli dicevo abbiamo bisogno di ritrovare le nostre radici, i nostri valori, la nostra colonna vertebrale valoriale e spirituale. Altrimenti in Europa c'è il fare, il potere, il sapere, l'avere, ma chi cura l'essere? E il Vangelo ci dice amatevi gli uni agli altri, perdonate, date, eccetera. Quindi questi valori, che non è semantica, che non sono valori romantici, è quello che ha fatto l'Europa e la nostra civilizzazione. Dio secondo lei è stato messo ai margini dalla nostra società? Dio è stato abbandonato, l'abbiamo messo fuori perché c'erano altri valori. Adesso dagli anni, dal maggio 68, non ne abbiamo visto né Dio né Maestro, dicevano in Francia. E poi abbiamo visto che 55 anni dopo non siamo più felici, non siamo migliori, non siamo più libri. Anzi, in Occidente e soprattutto in Europa occidentale c'è molta violenza, molte divisioni, molte tensioni. Quindi vuol dire che Dio è stato evacuato, ma il fatto di mandare via Dio dalla nostra vita, dalla nostra società, dalla nostra cultura, non ci ha dato la possibilità di essere migliori. Quindi secondo me, con discrezione ma con convinzione, bisogna che Dio ritrovi il suo posto. Dio non viene per dominare o manipolare l'essere umano, Dio viene per dare la libertà, perché per rialzarsi un po' come quando Gesù dice alla giovane ragazza, talità cum alzati. L'Europa ha bisogno di alzarsi, di ritrovare la sua dignità e la sua posizione di vivi. Lei in diversi scritti e in conferenze ha parlato del ruolo del sacerdote. Secondo lei è davvero come prevedeva il giovane teologo Ratzinger dopo il concilio che sarebbe stato ridotto al ruolo di funzionario il sacerdote? C'è il rischio infatti che il sacerdote, soprattutto in Europa occidentale, in certi paesi come la Francia, non ci sono molte vocazioni. Quindi un sacerdote si ritrova a essere parroco di tanti paesini, quindi c'è la distanza, c'è la difficoltà, c'è la fatica e il rischio, dico un rischio, non dico che sia la realtà, è che diventino funzionari, cioè ricevi gente per fare battesi, matrimoni oppure funerali, quindi tu li ricevi e quindi prendi nomi, c'è l'aspetto un po' amministrativo da funzionario, ma quello che è importante secondo me è che nonostante la fatica, nonostante le difficoltà, che il sacerdote non dimentichi la sua unzione. Il sacerdote deve amare le persone, tu ricevi una copia per i genitori per un battesimo o una famiglia per un funerale o una copia per un matrimonio, amarli significa che ci sia qualità relazionale con loro, tu li ascolti, tu li consigli, è un bel momento, quindi se il sacerdote non dimentica questa sua dimensione umana, il sacerdote rimane forte per la sua unzione. Lei spesso quando parla del sacerdote dice che talvolta cadono in questa sindrome di Calimero, qui diciamo il piangersi addosso, il dire ce l'hanno tutti con me, perché succede? Io capisco da un punto di vista umano, psicologico, che c'è la stanchezza, la stanchezza di viaggi, io vedo con i miei sacerdoti, vanno in un paesino o all'altro, prendo una macchina un'ora di strade piccole, non è semplice, io capisco la stanchezza, ma il rischio ancora una volta è di lamentarsi, cioè di dire solo le fatiche e non di dire e di condividere con gli altri la bellezza del ministero, quello che vediamo con le persone, incontri eccetera, che vediamo che sono belle, ci sono bei incontri, quindi secondo me non bisogna cadere nel sindrome di Calimero o iscriversi un po' nel libro delle lamentazioni, bisogna passare dal libro delle lamentazioni al cantico dei cantici. La vita è dura per tutti, non solo per i sacerdoti, per i genitori, lavorano, fanno gli sforzi, c'è il lavoro, c'è la famiglia, ci sono i figli, tutti hanno delle vite dure, noi non siamo ancora in paradiso, e la vita cos'è? Lottare e amare, quindi avanti. Qualcuno dice che se i preti si potessero sposare forse sarebbero meno tristi e andrebbero, come dire, porterebbero il loro ministero meglio, secondo lei ci arriveremo? A volte quando ci sono delle difficoltà e le crisi si cercano delle soluzioni, e a volte si cercano delle soluzioni secondo me tecniche e politiche strategiche, secondo me quello che è importante per un prete è di essere disponibile. La prima cosa che chiede un sacerdote il giorno della sordinazione è la prima parola che dice lui è, eccomi, sono disponibile, puoi contare su di me. Se tu hai una moglie e dei figli, tu devi essere responsabile di occuparti della moglie e dei figli, è la tua priorità. Se tu sei disponibile per vocazione, tu dai la tua vita, dai il tuo tempo, non sei là per prendere la vita degli altri, ma per dare la tua vita. Quando sentiamo e ascoltiamo e celebriamo la messa, questo è il mio corpo per voi, il mio sangue per voi. Il sacerdote dà, il sacerdote non prende. Quindi se il sacerdote è legato a una famiglia propria, è meno libero. E quindi la disponibilità e la capacità di dire, ecco, tu puoi contare su di me. Sono stanco, ho tante cose da fare, ma puoi contare su di me. Qualcuno lega anche il fatto del celibato sacerdotale alla questione degli abusi, ma si è capito che non c'è un legame tra le due cose. Non c'è legame, cioè delle patologie affettive, psicologiche o psichiatriche ci sono dappertutto, ma secondo me se un sacerdote è felice nella sua vocazione, nella sua missione, non ha bisogno di cercare altrove, non ha bisogno di compensazioni, e a volte patologiche. È per questo che secondo me la difficoltà è di trovare e di cominciare a fare un discernimento vocazionale presto. Tu, quando un giovane in seminario entra, la devi accompagnare. Se vedi certi comportamenti, sintomi, eccetera, la bisogna stare attenta, perché dopo possono fare male alle persone e alla Chiesa. E non è una questione di immagini, è una questione di responsabilità e di testimonianza. Vediamo che la Chiesa non conta più nella società come una volta, non ha più quel peso. Allora, come fare per ritrovare quel peso che la Chiesa aveva una volta? Forse stiamo vivendo l'esperienza del piccolo resto di Israele, come nell'Antico Testamento, ma non è scritto da nessuna parte che dobbiamo essere i più forti, i più belli, i migliori di tutti. Dobbiamo essere testimoni. E quindi io penso che oggi stiamo vivendo un tempo di vacche magre, è così, ma dobbiamo essere fedeli. E io penso che nella fedeltà c'è sempre una fecondità. Come immagina, per concludere, la Chiesa che verrà, la Chiesa del futuro, come sarà? Io penso che ci sono dei giovani oggi che sono completamente diversi della mia generazione. Io non sono molto vecchio, insomma, 55 anni, fra poco. I giovani di oggi sono vergini, almeno in Francia da un punto di vista spirituale. Quindi la mia generazione ha le domande sul il sacerdozio delle donne, il matrimonio dei preti, questioni molto tattiche e quasi politiche. I giovani che arrivano oggi, che hanno 18-20 anni, che non conoscono niente della Chiesa, loro ti chiedono questioni completamente diverse. Ti chiedono sull'amore, ma si può amare veramente? Ma devo amare se dopo soffro? questioni sulla morte? Ma mia nonna è morta e adesso? Dov'è? Dov'è? Quindi questioni piuttosto esistenziali. I giovani di oggi hanno titoli, sono dottori, hanno girato il mondo, sono andati dappertutto, ma dentro c'è una sete spirituale, umana, esistenziale. C'è un vuoto. E quindi la Chiesa può offrire col Vangelo la densità, il senso e l'orientamento per la loro vita. E questa è una sfida meravigliosa. Quando le chiedono dell'amore, se amo e poi soffro, le cosa rispondono? E questo dicono, ma nella vita bisogna rischiare, se non si fa niente, se non ti siedi, piangi e muori. Tu devi rischiare. Ma se tu ami, amore, in francese l'etimologia è bella, amour, assenza di morte. L'amore è la vita. Qui nella vita noi siamo cristiani per amare. Gesù ha detto è all'amore che avrete gli uni per gli altri che vi riconosceranno. Quindi un cristiano, anche un giovane, deve amare, deve rischiare. Con intelligenza non siamo solo istinto. C'è l'intelligenza, c'è la coscienza e c'è la libertà e la volontà. Abbiamo delle facoltà per rispondere. Quindi è bello per i giovani di dirgli rischiate, impegnatevi, altrimenti siamo sempre da aspettare, alla fine non facciamo niente e rischiamo di passare e di non vivere la vita con tutta la sua intensità. Grazie al Cardinal Franzo Abustiglio, Vescovo di Agiaccio. Grazie a voi. Grazie. Noi ci vediamo come sempre la domenica su TG con 24.